musica collaboro con Arfe da 4 anni mi sono occupato un po' di tutto, ho dato una mano la cosa figa secondo me del Rock Festival è dare una mano in qualsiasi campo ho lavorato spesso nel backstage è stata un'esperienza molto figa e lo sarà anche in futuro spero la mia esperienza con Arfe è iniziata perché appunto io sono originario di Alpette e sono stato coinvolto in questa esperienza organizzativa mi lega una vicinanza di amicizia con gli organizzatori una affezione con il paese e penso che sia un'iniziativa positiva per portare avanti qualcosa di figo in quel paesino di montagna ma penso due anni fa un personaggio molto molesto che girava con una tannica di vodka per il campo da calcio inneggiando Francesco Totti un Rock Festival un Rock Festival lo vedo lanciato verso un futuro rosio, sempre più rosio visto che in questi anni abbiamo fatto sempre maggiori progressi e spero che ci sia sempre più gente che partecipa sia attivamente che come pubblico a questa manifestazione a questa manifestazione